amici di Italian Fishing TV ben trovati per questa nuova puntata di photo fish la seconda del 2024 oggi ad accogliermi una bellissima giornata di sole prima di iniziare con la nostra top 5 io voglio invitarvi ancora una volta ad inviarci i vostri scatti più belli che riguardano non solo i momenti di pesca trascorsi da soli o con i vostri amici ma anche dei vostri spot preferiti come fare è semplicissimo basta accedere al sito di Italian Fishing TV cliccare sul box dedicato a photo fish compilare il form e caricare le vostre foto è arrivato il momento di iniziare a guardare insieme quali sono gli scatti che hanno interessato questa top 5 in quinta posizione troviamo lo scatto che mi ha inviato Alessio è proprio il caso di dire a pesca con papà piccole esperienze per piccoli pescatori che saranno i grandi pescatori di domani la quarta posizione se la giudica lo scatto di Simone tramonto mare una cattura bellissima cosa volere di più è arrivato il momento di salire sul podio e in terza piazza troviamo lo scatto di Fabio con il suo bellissimo esemplare di carpa la medaglia d'argento se la giudica la foto che mi ha inviato Marco un bel pesce a pelo d'acqua siamo giunti alla primissima piazza del podio e ad aggiudicarsi la medaglia d'oro è lo scatto di Claudio con la sua frizzantissima lampuga anche Claudio si aggiudica un premio messo in palio da Italian Fishing TV come tutti gli altri vincitori a me non resta che salutarvi vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e vi rinnovo l'appuntamento per la prossima puntata ciao a tutti